del Consiglio italiano, questo che cosa vi fa pensare? Che cosa vi fa pensare questa cosa? Allora, anche a chi non vuole ascoltare il Movimento 5 Stelle vada a vedere perché. Perché è così? Perché Renzi non è altro che la prosecuzione di questo sistema e se siamo stanchi di questo sistema non è la risposta lui e non è la risposta nessuno di quelli che è lì dentro. Non è la risposta lui, non sono la risposta le persone, ad esempio sabato siamo stati a Milano a visitare i cantieri di Expo 2015, io sono in Commissione Agricoltura, quindi sto seguendo questa esposizione perché ha un tema molto importante che è nutrire il pianeta, energia per la vita, un tema grosso ragazzi, ricordiamocelo, noi dobbiamo gestire questo pianeta, abbiamo un solo pianeta, dobbiamo cambiare direzione, eppure che cosa hanno fatto per un mezzo? Per un Espo hanno pensato bene, Comunione Liberazione, Lega, Partito Democratico, di fare la solita operazione di cementificazione, un milione di metri quadrati di terreno agricolo cementificati, assenso, che poi verranno riconvertiti ad aria verde per metà e per metà uso residenziale e sociale, vi sembra logico questo? Vi sembra giusto questo? Noi andiamo a sprecare solo l'agricolo che ci serve, già abbiamo consumato oltre quello che possiamo permetterci, quindi questa è la logica, non volete credere al Movimento 5 Stelle, ma andate a vedere i fatti, i fatti sono questi, i fatti che non c'è una visione in questa politica attuale, i fatti sono che la politica attuale si guarda solo al proprio portafoglio, non ha nient'altro come obiettivo.